ecco buonasera a tutti per questa diciassettesima domenica del tempo ordinario ci affidiamo come sempre lo spirito santo all'inizio di questa riflessione nel nome del padre del figlio e dello spirito santo o spirito santo amore del padre e del figlio ispirami sempre ciò che devo pensare ciò che devo dire e come devo dirlo ciò che devo tacere ciò che devo scrivere come devo agire e ciò che devo fare per cercare la tua gloria il bene delle anime e la mia santificazione o gesù è in te tutta la mia fiducia nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ecco in questa domenica ascolteremo un messaggio che arriva dritto dritto alla nostra mente per aiutare la nostra formazione cristiana stavolta sarà importante anche la prima lettura perché sentiremo nella richiesta di salomone c'è tanta saggezza ma lo sentiremo direttamente perché chiedere un cuore docile è importante una preghiera che spesso non facciamo ascoltiamo il brano dal primo libro del re è una parte del capitolo terzo in quei giorni a gabaon il signore apparve a salomone in sogno durante la notte dio disse chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda salomone disse signore mio dio tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di davide mio padre ebbene io sono solo un ragazzo non so come regolarmi il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare concede al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male infatti chi può governare questo popolo così numeroso piacque agli occhi del signore che salomone avesse domandato questa cosa dio gli disse poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni né hai domandato per te ricchezza né hai domandato la vita dei tuoi nemici ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare ecco faccio secondo le tue parole ti concedo un cuore saggio e intelligente uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te ecco in questo brano dove sentiamo che parla salomone sono da fare importanti considerazioni tanto sulle parole di salomone come le parole sulle parole del signore sappiamo salmone è nato da una relazione illecita di suo padre davide con bezzabea la storia è raccontata nel secondo libro di samuele ai capitoli 11 e 12 cosa la monia è diventato è diventato famoso per la sua la sua sapienza tanto che anche la regina di saba venne da lontano per sentire la sua saggezza questo ci è raccontato nel primo libro del re al capitolo 10 e questo brano è talmente importante che anche anche gesù ci ricorderà questo evento parlando di conversione la regina di saba si convertì a sentire le parole di salomone invece la contestazione che lui gesù fa le persone l'ascoltano e che loro non si convertono salomone consapevole della propria inesperienza infatti chiede un cuore docile per vivere secondo giustizia e distinguere il bene dal male due criteri fondamentali penso in modo particolare a chi ha compiti di responsabilità o di o di educazione la giustizia insegnare la cosa giusta e il discernimento attraverso una prega comprensione del bene e del male e il signore lo loda perché non ha chiesto tre cose e probabilmente avremmo chiesto noi dico io molti giorni una vita lunga in salute ricchezza il benessere il godimento la vita dei nemici non avere difficoltà e problemi di relazione con il prossimo è con cuore saggio e intelligente a salomone e questo ci porterà poi a vedere la conclusione del brano del vangelo di questa domenica che andrò a leggere dove appunto gesù paragona il discepolo a uno scriva che è divenuto discepolo e sentiamo sentiremo alla fine cosa fa questo scriva siamo nel vangelo secondo matteo al capitolo 13 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo un uomo lo trova e lo nasconde poi va pieno di gioia vende tutti i suoi averi e compra quel campo il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziosi trovato una perla di grande valore va vende tutti i suoi averi e la compra ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci quando è piena i pescatori la tirano arriva si mettono a sedere raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi così sarà alla fine del mondo verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti avete compreso tutte queste cose gli risposero sì ed egli disse loro per questo ogni scriva divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche ecco vediamo lo schema del brano in tre parti ci sono due parabole simili tesoro e la perla preziosa la parabola della rete e la conclusione sulla comprensione è l'esempio dello scriva ecco queste due parabole sono sostanzialmente uguali parlano appunto di aver trovato qualcosa di importante un tesoro una perla e aver deciso di dare via tutto pur di averlo analizziamole brevemente per vedere alcuni insegnamenti che possono nascere da queste parabole la prima parabola poteva capitare nella palestina del tempo di gesù che qualcuno in occasione di scorrerie di briganti o altre problematiche nascondesse un tesoro e poi morisse all'improvviso e quindi nessuno venisse a sapere di questo tesoro e quindi si potevano trovare a me mi tornano in mente i famosi tesori improponibili che va a cercare zio paperone coinvolgendo in delle avventure disastrose il povero paperino e gli deve andare dietro per forza ecco questo contadino probabilmente non nel suo campo ovviamente era stato stipendiato assondato per lavorare trova questo tesoro e quindi pieno di gioia il testo al versetto 44 va lo vende ha trovato la soluzione ai suoi problemi di sostentamento questo è importante perché per noi ovviamente può dire anche un'altra cosa no dio risolve i nostri problemi esistenziali la seconda parabola invece è un po diversa perché qui non è casuale il ritrovamento la perla preziosa da parte del mercante il mercante va in cerca proprio sottolinea il testo col desiderio forte di trovare allora va in cerca trova fatiche alla fine insomma riesce a fare l'affare del secolo ecco l'affare del secolo lo fa anche il cristiano nel capire che merita lasciare tutto pur pur di trovare gesù tra parentesi mi veniva in mente una piccola nota curiosa la parola perla in greco lo sapevo neppure io margaritas margherita è anche un nome di donna la perla la margherita ecco in queste due parabole abbiamo due sfaccettature diverse del tipo di approccio a gesù e quindi al regno dei cieli e mi fanno venire in mente forse la 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 situazione della comunità di di matteo il tipo di approccio diverso forse dovuto al fatto che alcuni si convertivano improvvisamente mi viene in mente che so lo stesso lo stesso matteo levi quando fu chiamato da gesù oppure zaccheo nel vangelo secondo luca una conversione improvvisa dovuta certo in caso di zaccheo in modo particolare di una ricerca di gesù ecco qualcosa di improvviso altri invece arrivavano a conoscere gesù in attraverso una lunga ricerca più sofferta la perla cercata con desiderio e mi viene in mente per esempio che so i discepoli del battista nicodemo che va da gesù di notte giuseppe da rimatea ecco direi l'importante che queste categorie di fedeli siano disposte a vendere tutti loro averi per ottenere il tesoro e la perla il regno di dio dovrebbe da dire che è importante cedere il proprio essere al di là del proprio avere perché conta lo stare con dio conta lo stare con dio e la sensazione di averlo la sensazione interiore e l'esperienza di cui tanti santi in particolare i mistici hanno fatto riempiendo la loro vita poi passiamo alla parabola della rete altra parabola interessante che riprende il tema della zizzania no certo punto bene male convivono poi c'è c'è un giudizio ecco questo avviene anche nella parabola della rete che ci ricorda e vengono raccolti pesci buoni e cattivi la rete prende tutti mi viene a dire c'è una chiamata per tutti a partecipare del regno di dio poi all'interno di questa come abbiamo sentito nella parabola della zizzania ecco che arrivano gli angeli e fanno una cernica nel simbolo dei pescatori che tirano la rete a terra e si mettono a scegliere e tengono i pesci belli è bella questa cosa perché in greco c'è la parola bello anche gesù buon pastore sarebbe gesù il bel pastore perché bello ed è interessantissimo in greco il bello è anche buono ed è anche vero questa una sfaccettatura molto molto importante mentre invece i pesci cattivi la parola ancora più forte indica i pesci marci putridi parole veramente orribile e quindi diventa che una parola che significa corrotto la parola proprio sprezzante direi ecco questi vengono buttati via scagliati lontano proprio quasi a non voler contaminare i pesci buoni con i pesci cattivi pesci putridi i pesci marci ci ricordiamo come domenica scorsa questi temi di giudizio legati alla fornace ardente anche via eccitata insieme al pianto allo stridore di denti ci ricordiamo il pianto l'idea del rimpianto lo stridore di denti l'idea del rimorso del digrignare i denti simbolicamente come non poter fare più niente ecco il tema delicato anche stavolta la mescolanza del bene con il male un giudizio divino ci sarà un giudizio alla luce di questo dopo le parabole precedenti siccome c'è un giudizio divino è importante che il discepolo sia disposto a rinunciare a tutto allora ce ne fosse la necessità per salvarsi nel giudizio finale quindi ovviamente anche dal tema dolorosissimo e di cui poco si parla della dannazione eterna ecco alla fine al termine di tutto l'esempio che ci ricollega un po alla prima lettura lo scriva lo scriva divenuto saggio ecco lo scriva divenuto discepolo scusate lo scriva era l'esperto della parola di dio esperto quindi ovviamente dell'antico testamento non essendoci ancora i discepoli lo scriva diventando discepolo diventa saggio su tutta la storia della salvezza simboleggiata nelle cose nuove e nelle cose antiche sarà compito dei discepoli vedere come la loro storia è fatta del nuovo riletto alla luce dell'antico addirittura c'è anche la struttura del tema della sapienza mi dice il professor mazzinghi sembra che sia in questo senso no prima la lettura del futuro poi il presente e poi l'antico per riuscire proprio a leggere la storia secondo la saggezza saggezza di dio e in un altro brano gesove ha parlato di cose buone e cose cattive che escono dal tesoro di ogni essere umano io direi dal cuore di ogni essere umano è il cuore di quel discepolo che deve formarsi alla luce della parola di dio come san paolo ricorderà al caro timoteo nella seconda lettera a timoteo capitolo 3 versetti 16 17 con la quale vorrei vorrei concludere questa riflessione tutta la scrittura ispirata da dio è anche utile per insegnare convincere correggere ed educare la giustizia ci ricordiamo la giustizia perché aveva chiesto salomone la prima lettura perché l'uomo di dio direi lo scriva divenuto discepolo sia completo e ben preparato per ogni opera buona concludiamo con questa queste parole con con la priera la priera che la chiesa mette sulla bocca del sacerdote appunto che fa l'inizio della messa come colletta come una specie di raccolta che le intenzioni di tutti i fedeli in un unico grande abbraccio che chiede queste cose o padre fonte di sapienza che ci ha rivelato in cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa conceda a noi il discernimento dello spirito perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno pronti ad ogni rinunzia per l'acquisto del tuo dono per cristo nostro signore ci vediamo domenica prossima con chi viene ammessa in ogni caso buona domenica con chi va ammessa nelle proprie comunità grazie a tutti